La dodicesima edizione delle fonti awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Sio dell'anno Risultati di Business Settore Risparmio Energetico e il premio va a Davide Zaccaria Crida Italia. Per guidare un'azienda sempre attenta a porre il cliente e le sue esigenze al centro dell'attenzione, per il servizio sicuro ed efficiente, nel pieno, sta arrivando, eccolo lì, nel pieno rispetto degli standard tecnico-commerciali e di sicurezza richiesti dal cliente. Davide Zaccaria è quello qui, sio dell'anno Risultati di Business Settore Risparmio Energetico. Buonasera. Grazie a lei. Complimenti e buonasera. Siamo in compagnia di Davide Zaccaria, amministratore delegato di Crida Vitalia, azienda leader nel settore dell'installazione di impianti di condizionamento, riscaldamento ed energie rinnovabili. Le fonti le dà il benvenuto. Le vorremmo chiedere cosa differenzia Crida Vitalia dalle altre aziende e quali sono i vostri valori aziendali. Bene, buonasera. Grazie dell'invito. Crida Vitalia, la mia azienda, da sempre, da quando è stata creata, ha avuto un'attenzione da parte del sottoscritto seguendo una certa etica, è quella a cui tengo di più. Etica nel senso di rispetto per i nostri dipendenti, rispetto per tutte le figure che comunque collaborano con la Crida Vitalia, cercando di dare anche qualità della vita ai nostri collaboratori, quindi per far sì che si possano sentire all'interno della nostra struttura nel pieno delle proprie forze e poter sfruttare bene le proprie capacità. Etica anche intendo quello che riusciamo a fare di buono al cliente, cercando di accompagnarlo verso un progetto di efficientamento energetico, che è un po' il nostro mondo. E infine Etica mi piace tantissimo e mi motiva sapere in che modo arriviamo sul nostro territorio, nel territorio in cui operiamo. Quindi ci tengo veramente molto ad arrivare in una certa maniera. Questa sera ha ricevuto un riconoscimento molto importante, SIO dell'anno, per i risultati raggiunti nel settore del risparmio energetico. Un commento a questo traguardo? Sì, ovviamente sono orgoglioso e non credevo di poter arrivare a ricevere un riconoscimento così importante. Questo riconoscimento lo condivido in maniera esemplare con tutti i miei collaboratori, con tutto il mio team, perché all'interno della Crida Vitalia la squadra fa veramente la differenza, come sicuramente anche in altre strutture. Però veramente noi puntiamo tanto sulla coesione, sul darsi una mano, detto alla Toscana, darsi una mano fra colleghi, fra collaboratori, per far sì che si possa raggiungere l'obiettivo univoco e prioritario dell'azienda stessa. Ci sono tantissimi momenti all'interno della nostra organizzazione per poter stare insieme anche extra lavoro. Questo è quello che va a rafforzare, a rinforzare il lavoro di squadra, il lavoro di team. Quindi un grazie, lo faccio ancora, ripeto, a tutti i miei collaboratori. Quando rientrerò prenderò, come si suol dire, la palla al balzo per poter fare una bella festa, per congratularmi con tutti loro. Come ben sappiamo, il surriscaldamento globale e il cambiamento climatico sono tematiche ormai centrali. In questo ambito, quali sono le principali sfide e gli obiettivi di Crida Vitalia? Sì, bella domanda. Le nostre sfide sono variegate. Insomma, noi sicuramente l'obiettivo è dare un contributo importante per cambiare la mentalità, perché prima di parlare di prodotti dobbiamo parlare di mentalità, dove ci sarà bisogno sicuramente di una sinergia a livello mondiale, nazionale, da parte di tutte le aziende che si occupano come noi di questa attività, ma anche di tutte le istituzioni e via discorrendo. Noi di concreto cosa facciamo? Abbiamo dato vita a un nuovo progetto, Costruire Efficientando, che va a rivoluzionare un po' il sistema di ristrutturazione dell'abitazione. Non partiamo più dall'edilizia, ma partiremo dagli impianti, perché partire dagli impianti per fare delle case gas free porteranno dei notevoli vantaggi in termini di diminuzione di CO2 e di qualità dell'aria. Oltre questo, un'attività che ho voluto fortemente, e partiamo proprio già la prima quindicina di gennaio, c'è già una data certa, partiremo a fare informazioni presso le scuole secondarie per arrivare fino anche alle università, perché con il progetto di cercare di portare una mentalità nuova, una mentalità più green, ai nostri giovani che sono il motore, il volano del futuro del nostro paese.